L'operosità dell'imprenditoria cunese, grande protagonista della 66esima edizione del premio fedeltà al lavoro e progresso economico della Camera di Commercio di Cuneo. In un gremito palasport di Boves addobbato a festa, sono stati insigniti del prestigioso riconoscimento 144 imprenditori in rappresentanza di tutte le categorie economiche. Sette i premi speciali, il cunese nel mondo, a Baldassarre Monge di Monasterolo di Savigliano, capostipite della Monge CSPA, geniale creatore del pet food in Italia. Mentre i sigilli d'oro sono stati assegnati a Tiglio Ferrero, fondatore della Ferrero Costruzioni SPA di Ceva, Mario Fulcheri, antiquario di Cuneo, Carlo Gabetti, allevatore di Dogliani, Riccardo Garelli, farmacista di Monteoro Aero, Ernesto Marengo, presidente di Piemonte Miele di Fossano e Giuseppe Marini, fondatore della Marcos di Mondovì. La società cunese che dice grazie a questa gente, augurandoci che sia un monito anche per i propri figli, per poter continuare nel sistema delle imprese a costruire il futuro di questa comunità, che oggi è diventato addirittura un modello economico all'interno del paese e che ha grazie a questa gente, a questi marchi, a questi brevetti, a questi uomini, a questa innovazione, a queste eccellenze che ogni giorno sanno produrre, che sanno trasformare, che sanno vendere. Hanno costruito veramente una storia straordinaria del modello Cuneo, di questa terra di granda, alla quale noi dobbiamo ispirarci per costruire ancora pagine importanti del nostro futuro. La provincia di Cuneo è un orgoglio per tutti noi cunesi. Abbiamo avuto la fortuna di nascere qui, siamo legati a questa nostra terra, legati a questa nostra provincia e oggi siamo qua soprattutto a dire grazie, grazie a chi ha saputo investire, ha saputo rischiare, ha saputo creare ricchezza e posti di lavoro e anche io dico un po' a chiedere scusa, perché chi rappresenta la politica, le istituzioni, oggi agli imprenditori cunesi e agli imprenditori italiani deve chiedere scusa, perché non si può continuare a non capire che bisogna sostenere realmente il mondo dell'impresa. Tutte belle parole che a volte noi facciamo ma che poi indipendentemente da chi governa non seguono a fatti concreti. Bisogna dire un grande grazie, essere consapevoli che a queste persone, a questa generazione dobbiamo molto e bisogna saper capire e saper trasferire e continuare quello che è stato il loro saper fare. È la migliore dimostrazione che con impegno, con serietà e mantenendo fede ai valori antichi si può continuare a crescere e ad andare avanti. È un messaggio di speranza anche in questo momento di difficoltà. Bisogna correre, bisogna darsi da fare, insomma. Io ho avuto la fortuna che la mia famiglia lavora lì nell'azienda e il successo dei nostri prodotti è più di mio figlio che di me. Io ero più di lavoro, lui è più di giramondo e bisogna girare. Ho imparato i primi rudimenti dell'arte del farmacista all'età di 10-12 anni a fare le cartine che si giuravano allora. Parlo 1934-35, prima della guerra. E poi ho sempre continuato la mia professione fino adesso. E quel che posso fare è finché la salute mi accompagna perché l'età non è indifferente. Se devo anche dirla ho 94 anni.